La criminalità comune, violenta, pervasiva, capillarmente diffusa, il male oscuro dell'eversione che già era presente, i germi malati della criminalità mafiosa che vanno via via consolidandosi anche grazie forse a delle sottovalutazioni di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze oppure valutazioni inascoltate da chi doveva intervenire e magari non interveniva.